Musica Ogni giorno nelle case degli italiani finiscono nella pattumiera 100 grammi di cibo a testa. Una quota che moltiplicata per 365 giorni all'anno porta a quasi 37 chili di alimenti per un costo di 250 euro all'anno. Presentiamo i dati di Reduce, progetto del Ministero dell'Ambiente con l'Università di Bologna e altri Atenei. L'indagine è quantitativa attraverso dei diari per quantificare per la prima volta in Italia in modo preciso lo spreco domestico. 400 famiglie che si sono sottoposte a questa indagine, 100 grammi al giorno pro capite che sembra nulla, però moltiplicata per il numero di abitanti, di consumatori e per gli euro di acquisto medio alimentare rappresentano lo 0,6% del nostro prodotto interno lordo, pari a 8 miliardi e mezzo. Guida la classifica dei cibi gettati, la verdura, subito dopo latte e latticini a seguire la frutta e i prodotti da forno. La hit list dello spreco va considerata anche per i riflessi sulla salute, soprattutto dei più piccoli. Alcuni determinanti di salute dipendono dalla qualità dell'alimentazione. Si dice che noi siamo quello che mangiamo, ma in realtà mangiamo anche per quello che siamo dal punto di vista culturale della conoscenza e paradossalmente se guardiamo i dati vediamo in maniera anche provocatoria, ma lo dico a fin di bene, vediamo che noi adulti sprechiamo quei cibi che poi mediamente mancano ai nostri figli, affetti da un problema molto grave in Italia che è l'obesità infantile. Sprechi ed eccessi dunque, sul fronte salute ed anche sociale, dove c'è chi ha davvero poco. Da qui il progetto Il Cibo che Serve, finanziato dalla Regione Lazio e finalizzato al recupero di frutta, verdura e altri generi in scadenza. Le eccedenze verranno raccolte e redistribuite grazie al potenziamento di una rete solidale organizzata dalle ACLI di Roma tra municipi, realtà produttive e solidali.